Buonasera, sono il dottor Fabrizio Marrone, farmacista ed esperto in nutraceutica e fitoterapia. Ho quattro sedi di parafarmacie a Roma, Organic Vitamin e Food, e un laboratorio di produzione di nutraceutici personalizzati. Nelle mie quattro parafarmacie effettuo il test del mineraliogramma S-Drive, dove praticamente riesco tramite il capello a riconoscere le microcarenze alimentari, intossicazioni da metalli pesanti, lavoro a livello epigenetico, cioè come i nostri geni influenzano la nostra salute, sia da quello che mangiamo, quello che respiriamo, e tramite il mineralogramma riesco a vedere le microcarenze, soprattutto anche prevedere dei polimorfismi, perché quando dal mineralogramma vengono fuori carenze delle vitamine B, B9, acido folico e il sistema antiossidante endogeno, quindi il glutatione, sod, problematiche a livello di omocisteina elevata, quindi a livello del cardiovascolare, possiamo già fare una prima anamnesi, possiamo già parlare, contestualizzare con il nostro cliente, paziente e cercare insieme di intraprendere una cura personalizzata con dei nutraceutici che vanno a colmare le microcarenze e poi possono anche andare dal proprio medico di famiglia e approfondire se vogliono. Questo è il lavoro che faccio quotidianamente, studio nutraceutica e studio sempre nuove molecole organiche che possano aiutare a prevenire patologie o semplicemente a migliorare il nostro stato di salute e promuovere la nostra longevità.